Salvatore Fazzari, Parghelia, Borgo Grecanico 1-1, bloccata una delle capoliste, che dire di questa partita? Che dire, niente, non riusciamo a trovare ancora i tre punti, peccato, peccato, oggi le abbiamo lasciate due sicuramente sul campo, perché è stata una bella partita, abbiamo giocato bene, ci siamo espressi bene, abbiamo avuto tante occasioni, due pesori dubbi in area di rigore, tra cui un rigore nettissimo, e ora c'è solo un po' di sportuna, un po' di sportuna perché vedo miglioramenti, i ragazzi ci sono, giochiamo bene, dobbiamo solo aspettare un po' di fortuna, solo qui. Mercoledì si ritorna in campo, di nuovo in casa contro la Bagnarese, cosa aspettarsi? Sicuramente una partita dura, contro un'ottima squadra ben organizzata, di cui ha 5-6 elementi che ben conosciamo, di spicco, ce la dobbiamo lottare con tutti, abbiamo sempre detto che il nostro scopo è la salvezza, dobbiamo lottarcela con tutti e cercare di fare meglio di come stiamo facendo, perché la promozione è un'altra cosa. Senti, cosa manca ancora a questo Parghelia? Ma mancare, manca un po' di fiducia, fiducia in se stessi, un po' di coraggio per osare di più, la squadra deve osare di più, perché ci sono quei tratti di partito dove la squadra osa e cominciamo a giocare bene. Vincere le paure, tutto qua. Grazie, grazie direttore generale. Buonasera.